Ciao, siamo qua con il nostro tipico esperto d'arte Paolo e siamo della comunità di Papa Giovanni XXIII Come comunità? Via Papa Giovanni XXIII Ah, scusate, via Papa Giovanni XXIII Paolo, parlaci di quest'opera d'arte Sì, allora, quest'opera d'arte come potete vedere è una banana e rappresenta la società moderna infatti l'etichetta è stata proprio sfregiata per rappresentare questo decadimento della società è stata pagata un mucchio di soldi dal comune infatti è un richiamo alle opere d'arte di Andy Warhol ai dipinti di Andy Warhol e anche a dei collegamenti a livello musicale infatti è con i nazi skin, penso il gruppo di nazi skin, è sicuro? Sì, 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 nazi skin Non rimane skin? Ah, potrebbe anche essere Vabbè, uno di due comunque Sì, quello che piace di più, da Ok, e niente, quindi è stata, come si dice, commissionata dal comune più o meno il suo valore sui 10 milioni di euro e va assolutamente osservata no, 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 non va, non so mai Assolutamente e... Ma... Se vuoi fare una cosa, no? Tipo... No, 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 non si può toccare infatti ci sono anche gli allarmi, i cani anti-allarme come si abbaiano Dove sono? Sono da quella parte? Sì, sono sedi in là che... Cosa sta facendo? Ha famissimo No, no, si fiede Si fiede Cosa fa? Trattoportissimo Siamo tornati qua Purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici un po' gravosi Diciamo che la statua, l'opera d'arte è un po' cambiata ma... È pur sempre valida Esatto, assolutamente Come potete vedere Vedete vedere Sì, sì L'involucro, anche questo che rappresenta la società moderna è stato riposizionato con sapienti mani da, insomma, gli progettisti, gli esperti Bravo Ho fatto questo palo illuminato Ah, è sicuro che poi l'illumina così? Sì, si va, ha preso la luce e poi incanalata sopra quest'opera Ok, continui, così l'illuminiamo E quindi sì, secondo me è anche più bella e più, come si dice, significativa rispetto a prima Dov'è finito lì? Eh, non si sa, perché ci sono dei problemi e purtroppo... Quando magari uscirà l'inchiama, magari lo si deve metterla lì Sì, proviamo a ricomporla Però secondo me è valida anche così, nel senso... Sì, 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 è molto bella Vuoi lasciare già anche la buccia? No, no, no... Comunque, mi raccomando, quando passate, invia papà Giovanni, fermate e fate... Mi raccomando, iscrivetevi al canale e restate aggiornati per i prossimi video futuri Da qua è tutto, bene